Nuovo coronavirus, un caso di covid tra le fila del Como. Ad annunciarlo è la stessa società. Il Como 1907, si legge nella nota ufficiale del club, comunica in accordo col diretto interessato che il calciatore Pierre Bolchini è risultato positivo al covid-19. Il controllo, spiega ancora la società, si è reso necessario a seguito della riscontrata positività di un componente del suo nucleo familiare che opera in ambito sanitario. La società precisa che il portiere sta bene ed è completamente asintomatico. Dal 10 marzo scorso si trova in isolamento nella sua abitazione dove rimarrà per il periodo di quarantena. Tutto il Como 1907, si legge nella parte finale della nota, fa gli auguri di pronta guarigione al proprio portiere. Il covid-19 ha poi colpito duramente la famiglia di un ex azzurro, Marco Nicoletti, centravanti del Como di fine anni 70 che nella pandemia ha perso madre e padre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.